cari amici cari amici e tanti saluti da Serafino Massoni oggi è sempre mercoledì 7 dicembre 2011 e sono ora le 12 e 40 minuti e vedete la la trasmissione è odierna di questa web tv il diritto di battere moneta e l'idea di di remare questa trasmissione mi è venuta questa mattina perché questa notte il mio inconscio deve aver pensato a lungo alla trasmissione di ieri sera di ballarò dove c'era il ministro del welfare Elsa cornero e ho visto che si dibatteva tanto per far capire agli italiani tramite la trasmissione ballarò e a che punto siamo arrivati mi pare che abbia detto a un certo punto che si rischiava addirittura che non ci fossero più i soldi per pagare gli stipendi agli statali sì vabbè avrebbero potuto dircelo anche prima questo d'accordo che si correva lo stesso rischio che ha corso la gricia la gricia non aveva più il governo greco non aveva più i soldi per pagare gli impiegati della gricia la gricia 12 milioni di abitanti dei quali 4 milioni facevano i pubblici dipendenti 4 milioni e se questi 4 milioni di pubblici dipendenti gli dolevano la paga e saltava tutta la gricia perché in pratica c'era un pubblico dipendente ogni nucleo familiare grosso modo in grecia noi non siamo ancora questo livello però c'eravamo vicino e e sono rimasto tanto impressionato dal vedere come il ministro luisa cornero che pure un esperta e cercava di far capire la situazione ai telespettatori sono rimasto tanto impressionato che ci ho pensato tutta la notte cioè ci ha pensato il mio inconscio questa mattina mi sono mi sono alzato e consapevole di avere trovato la soluzione e mi meraviglio tanto che la soluzione non sia stata trovata da questi economisti che compongono il nostro attuale governo tecnico in primis e mario monti per cui cari amici io vi prego tanto che al termine di questa trasmissione voi prendiate questo video come al solito lo infiocchettate per bene e lo inviate sia al premier mario monti che a tutti i suoi ministri tecnici che sono quasi tutti degli economisti certe cose le avrebbero dovute capire prima di me capito allora vediamo un po l'inconscio lo sapete che l'inconscio ne sa una più del diavolo io vi ho detto tante volte che io non sono padrone di me stesso il padrone di me stesso è il mio inconscio sono inconscio smisurato e solo che il mio la mia parte consapevole piccola piccola è più piccola dalla punta di un iceberg io sono in baria dell'inconscio così come la punta dell'iceberg è in baria di tutto la parte dell'iceberg che sta sotto la superficie dell'oceano così ho sbattuto di qua di là e questa mattina mi sono svegliato con questa idea di come salvare le cose come salvare le cose vorrei cominciare facendomi osservare che i grandi i grandi rivoluzionari francesi e avevano coniato in moto libertà e galità fraternità ed erano dei grandi pensatori c'era Voltaire d'Alembert di Roma quanto ma ce n'erano infinità di pensatori illustri dell'illuminismo a proposito apro una parentesi c'è la mia c'è la mia c'è una mia trasmissione intitolato l'eresia illuministica non so se mi spiego c'è anche una una trasmissione dedicata all'illuminismo intitolata l'eresia illuministica chiusa la parentesi e loro avevano coniato un moto bellissimo e per te egalità fraternità ma non erano andati a dimenticarsi della parola più importante la felicità che cosa ci voleva inserire nel moto rivoluzionario questa parola la felicità no non ce l'hanno messa la felicità si vede che loro il loro sguardo era ancora un po' miope e per sì che nella rivoluzione americana pochi anni prima gli americani se l'avevano messo nella costituzione alla parola felicità felicità io mi ricordo che quando c'era la trasmissione anno zero di migliere santoro che adesso si chiama servizio pubblico ma non essendoci più benissimo benusconi c'è poco da fare anno zero servizio pubblico di che parli e tutti i giovani della trasmissione di santoro tiravano tutto felicità felicità erano informati perché all'università gli avevano insegnato che dentro la costituzione americana c'è la parola felicità e però era una felicità mozzata mozzata perché loro la usavano i giovani dicevano nella costituzione americana c'è la parola felicità però però si dimenticavano di dire come era la cosa dentro la costituzione americana perché dentro la costituzione americana c'è la parola felicità ma è detta in questo modo lo stato che abbiamo formato lo stato americano deve organizzarsi in maniera di rendere cioè di non opporsi alla ricerca della felicità fatta dai cittadini cioè non è che lo stato gli dava la felicità ai cittadini lo stato doveva fare in modo di non impedire ai cittadini la ricerca della felicità e fatto sta che siamo rimasto con questa grave omissione libertà e non c'è felicità poi anche circa la libertà circa la libertà e sì ma com'è la libertà la libertà di fare chi? la libertà di fare chi? fare chi anche qua non si è mai scesi nei particolari allora io ho pensato che dentro la libertà la libertà di per te, galite, fraternite ci dovrebbe essere pure la libertà di battere moneta cioè il diritto di battere moneta e se no che libertà è? che libertà è? quindi diritto di battere moneta, la libertà di battere moneta allora vediamo un po' qual è la proposta salvifica che ora vi illustra Serafino Massoni tramite questa web tv pubblica allora mi ha sorpreso per esempio che la professoressa Elsa Gornero e abbiamo dovuto dibattere tanto per la questione delle pensioni ha dibattuto tanto, ha dibattuto eppure la soluzione sarebbe tanto semplice sarebbe lo Stato dovrebbe consentire che in casa di tutti i pensionati e ci sia una piccolissima stamperia magari data gratuitamente dallo stesso Stato una piccola stamperia in modo che uno si procuri un po' di carta un po' di inchiostri colorati e possa battere moneta battere moneta cioè produrre monete e la matrice può essere data direttamente dallo Stato affinché i pensionati possano battere un'unica moneta moneta secondo la matrice regalata dallo Stato oppure ogni pensionato può farsi una propria matrice personale in modo da creare moneta moneta a sua immagine e somiglianza con la stampata sopra moneta a cura del signor Mario Rossi oppure moneta a cura del signor Mario Bianchi e via di seguito questa è una scelta personale del pensionato quindi il pensionato avendo in casa propria una piccola stamperia una stamperia semplice oggi si può fare con i ritrovati dalla scienza e dalla tecnica un po' di carta e un po' di colori stampa la quantità di denaro, di banconote che gli sono necessarie ci si affida al buon cuore dei singoli pensionati e non si capisce per quale motivo avendo questa possibilità di mettere nelle case di ogni pensionato una piccolissima stamperia una specie di stampante una specie va bene gli si insegna come fare carta, colori e poi ognuno si fa la propria matrice se non vuole accettare la matrice unica dello Stato si fa la propria matrice e ciascun pensionato stampa la quantità di banconote che gli sono necessarie senza esagerare secondo delle necessità mese per mese stampa stampa c'è la carta c'è i colori c'è la matrice dove è il problema? mi pare una cosa tanto semplice i pensionati si stampano il denaro di cui hanno bisogno tutto qua né di più né di meno mese per mese a seconda delle necessità delle mutevoli necessità dei tempi che cambiano anche la faccenda lì che ti tolgono l'indicizzazione e risolvi tutto anche il problema dell'indicizzazione ogni pensionato se si trova la pensione indicizzata e la vita continua grisci stampa una quantità superiore di banconote ma dov'è il problema? per esempio questa faccenda di dare a tutti i cittadini italiani e domani anche a tutti i cittadini nel mondo questa possibilità di battere moneta a casa propria dico moneta ma sono banconote perché è diverso coniare il metallo il conio è più complicato basta fare battere moneta nel senso battere le banconote e creare le banconote un po' di carta un po' di colori e la matrice lo stampo la matrice una matrice unica di livello nazionale o una matrice fortemente personalizzata secondo i propri ambiti personali le proprie preferenze e le vie di seguito e ciascuno si può spizzarire anche nei disegni del davanti e del di dietro e le vie di seguito e poi si parlava di evasione fiscale io ho visto ho visto che 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 la Gornero aveva problemi si si ha detto la Gornero che l'evasione fiscale è diventato un vero e proprio reato un vero reato guardate che non si dice reato penale capito non dite mai è un reato penale quanti giornalisti che lo scrivono un reato penale ci sono gli illeciti gli illeciti gravi gli illeciti gravi le cose gravi sono illeciti penali o reati il reato è un illecito penale poi ci sono gli errori veniali che sono illeciti amministrativi ma non dite mai è un reato penale capito ma non le fate mai queste figuracce quanti fior di giornalisti fior di e persino editorialisti che scrivono un reato penale non si dice reato penale si dice illecito penale alias reato illecito penale alias reato c'è l'illecito penale c'è l'illecito amministrativo che è un peccato veniale poi appunto vedevo che l'agromero si trovava appunto con la questione dell'evasione fiscale con la questione dell'evasione fiscale si trovava un po' a disagio sì per noi l'evasione fiscale è una cosa bellissima che l'evasione fiscale sia diventato un reato ovvero un illecito penale però anche qua c'è la soluzione tanto semplice se a tutti i cittadini potenzialmente ladri ladri in dati la facoltà di tenere in casa questa stampante questa stampante e ogni cittadino potenzialmente ladro si procura la carta si procura il colore si procura la matrice se vuole personalizzato oppure accetta quella unica dello Stato ogni cittadino potenzialmente ladro quando sa che deve pagare 10.000 euro di tasse anziché evaderle le tasse o eluderle o portare i soldi in Svizzera niente in casa sua si fabbrica il denaro adeguato alla quantità di tasse che sono richieste dal governo e così il problema è risolto è risolto non ci sono più gli evasori fiscali ognuno si fabbrica a casa propria una quantità di denaro adeguata a quello che gli richiede lo Stato né di più né di meno ci si affida al buon cuore di questi cittadini potenzialmente evasori d'accordo? e ognuno la stampante la usa in modo diciamo discreto è una grande qualità la discrezione ne parlo nel mio romanzo e la stimpia del serpente io parlo qua della discrezione che è la prima virtù del seduttore il seduttore non deve essere non deve essere bello non deve essere rico non deve essere silenzioso non deve essere discreto discreto lo dice Sissifo che è uno dei protagonisti di questo romanzo storico-mitologico Sissifo è stato il fondatore del patriarcato e la virtù migliore del seduttore è la discrezione essere muti come un pesce così la donna si fida le donne non si fidano le donne sposate ovviamente che le donne sposate mica si fidano in foforone uno che con tutti gli amici dice mi sono fatto come la sono fatta mi sono fatto quella l'altra la donna sposata va con un uomo discreto il seduttore è una persona discreta capito? è una persona che non parla mai o parla pochissimo anzi è una persona che vi dice pure che lui è impotenti è impotenti non riesce a andarci con le donne capito? quello lì è il massimo della seduzione cioè della discrezione e così risolto il problema il problema dell'evasione fiscale ogni cittadino potenzialmente ladro c'ha a casa in piena legalità magari passata dallo stesso stato una stamperia una piccola 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 una specie di fotocopiatore capito? quelli qua che si usano col pc stampa il denaro e di volta in volta ne stampa nella quantità richiesta dallo stato per il pagamento delle tasse via scomparse tutto sparite evasioni e delusioni e spariscono pure i paradisi fiscali d'accordo? perché se uno ha tanti quattrini e c'ha paura che ci deve pagare tante tasse su questi questi tanti quattrini che c'ha se sa che le tasse su tutti i quattrini che c'ha le può pagare stampando le banconote a casa sua ma non ci pensa più andare in Svizzera a Liechtenstein a San Marino non ci rimette niente i soldi li tiene in Italia quello che lo stato gli richiede per pagare le tasse e lui lo stampa in casa sua né un euro di più né un euro di meno si si affida al buon cuore di colui che ha in casa questa stampante con la carta con i colori e con la la matrice la matrice e poi sentivo che c'era pure c'erano questioni che riguardavano gli operai metalmeccanici e vi di seguito ma che cosa sono tutti questi problemi di fare gli scioperi c'è Maurizio Landini la Susanna Camusso poi quello della Cisla Bonanni quello della Will sempre incazzati sempre incazzati perché si dice che gli operai metalmeccanici sono pagati poco e giù scioperi e scioperi ma andiamo si dà a tutti gli operai metalmeccanici gli si dà la possibilità di tenere in casa di tenere in casa questa stampante questa stampante non costa molto la carta non costa molto i colori la matrice della passa allo Stato oppure ogni operaio si costruisce una matrice a sua immagine e somiglianza e quando alla fine del mese l'operaio tira la busta paga da Marchione se vede che la busta paga non gli basta per il mese successivo che è arrivato alla metà del mese e non gli basta niente fabbrica la quantità di denaro sufficiente di banconotti sufficienti per arrivare alla fine del mese né un euro di più né un euro di meno è finita la conflittualità sociale cari amici capito? poi si dice pure che lo Stato è pieno di debiti è pieno di debiti lo Stato è pieno di debiti con chi? con i paesi che ci hanno prestato i loro fondi sovrani niente si lascia lo Stato la facoltà di stampare il denaro sufficiente a estingue i debiti il problema è risolto lo Stato italiano mette a lavorare a pieno ritmo il suo poligrafico e stampa la quantità esatta di denaro esatta 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 né un euro di più né un euro di meno per restituire i fondi sovrani ai cinesi e i cinesi quando ricevono tutti questi fondi sovrani questi banconotti italiani questi euro italiani freschi 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 appena usciti dalla stamperia del governo ti ringraziano sapete che vi ringraziano tanto i cinesini grazie grazie il debito è stito ma dove sono i problemi dove sono tanto cielo i problemi poi per estensione il governo potrebbe anche estendere tutti i cittadini italiani la facoltà di tenere in casa questa piccolissima stamperia piccola 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 sempre con una matrice governativa o una matrice singola per ciascun cittadino e tu che hai la tua bella stamperia in casa ti stampi la quantità strettamente necessaria di banconote anche se sei disoccupato una quantità strettamente necessaria per arrivare alla fine del mese poi magari la mattina la mattina che vai dal fornaio a comprarti una bella brioche perché i brioche migliori non le trovi al bar le trovi dal fornaio e il fornaio quando ti vede entrare ti dice buongiorno signore buongiorno signore io ho lavorato tutta la notte per lei qua ci sono quelle brioche meravigliose scelga 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 e tu scegli la brioche che ti pare più buona poi tieni fuori la tua banconota paghi il fornaio che ti ringrazia tanto il fornaio e ti ricorda che lui ha lavorato tutta la notte di sotto nel forno per te per farti le brioche fresche fresche tu gli dai per esempio 10 euro e lui ti restituisce il resto con le banconote che il medesimo fornaio ha stampato nella sua stamperia per le sue strettissime necessità né un euro di più né un euro di meno capito ecco come si risolvono i problemi cari amici è vero che il mio inconscio mi ha aiutato tanto questa notte cari amici è vero che lo infioccheterete tutto questo video e lo manderete speditamente al ministro Elsa Cornero Elsa Cornero al premier Mario Monti è vero dice come regalo prenatalizio del del signor Serafino Massoni eccolo qua il diritto di battere monete amici miei ma insomma si chiama uovo de colombo si chiama lo diceva Oscar Wilde ma qual è la cosa più difficile da vedere la punta del proprio naso le cose più semplici sono quelli che non si vedono vedete cari amici quanto è semplice risolvere i problemi dell'umanità va bene cari mi raccomando fatelo circolare mandatelo al governo questo video capito va bene va bene grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni